Psss Per i crediti In descrizione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Fammi stare un po' più basso se non mi vedete Allora, questo è un opening pack Velocissimo, non metto manco la Videocamera tonda, proprio sto facendo In fretta e furia, aprirò due pacchetti da 100.000 Ieri ho fatto una maratona Di apertura Dei pacchetti da 7.500 Per cercare Messi verde Perché c'era Messi, c'era C'erano 4 giocatori Verdi che hanno messo tipo nelle ultime 24 ore Allora stavano giocando Messi, però Mi è uscito Enyam Enyam Però tipo 92 di riflessi Insomma, mi sembra abbastanza alto, questo gioca Nella League One in Nigeria No Non lo so Scherzo, è nigeriano Si insomma, andiamo ad aprire sti pacchetti Ok Ehm Negozio Ehm Pacchetti speciali 100.000, abbiamo due Croce Mascherano Mascherano Consigli Miranda Bise Bise Carol Di Maria Di Maria E' potente veramente Welbeck Ibarbo Barbatov E' qua un casino di roba Ok Questa mi tocca scartarli tutti Ma quel cazzo che li scarto Metto Tutti in lista trasferimenti Posso? Non posso mettere tutti la lista trasferimenti? Merda Dai veloce Cioè, guarda, questi 81, no no, questi li vendo Anche tipo a 1000 crediti l'uno Però li vendo tutti Ora Spero nel secondo di trovare qualcuno di colorato Mi frega un cazzo se è forte o non è forte Basta che è colorato, insomma Mi faccio collezione qua Ehm Capito Eh, spero che tu abbia capito Qualcuno di colorato voglio Ti prego Un colorattino piccolino Cicciolino E ti prego PLEASE 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 Sì Hager Menez Menez Oh cazzo che brutto Dear Hernandez Z Dzeko Defoe Valdes Si Terbat Benatea Fernando Torres Ok, però Che pavole Volevo qualcuno di colorato Cambiasso Cambiasso Song Borca Valero No, insomma Ma sono giocatori anche decenti eh Di nuovo Ogbonna Ogbonna Ma anche questi tutti gli stati esperimenti ah come te lo dico Ragazzi Ehh Funziona così Ci può fare qualcosa? Ehh no Io volevo o un tizio verde o uno di quei tizi Tutti neri e gialli Che se suona razzista Vabbè per questo opening pack e tutto Non abbiamo trovato nulla di Da collezione diciamo però I giocatori sono buoni li venderò Vediamo quanti criti riesco a farci Io vi saluto Grazie per la visione Ricordatevi di lasciare un mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale Tutta quella roba lì Io vi saluto, ciao a tutti